Per Giorgia Meloni più che una conferenza di fine anno, quella del Premier è sembrata una conferenza di fine mandato. Il lavoro sul recovery plan è impostato, L Italia è uno dei paesi più vaccinati al mondo, ora il governo può continuare indipendentemente da chi ci sarà alla guida. Mario Draghi separa i suoi destini personali da quelli dell'esecutivo. Respinge l'idea di essere uno scudo allo spredo l'unico in grado di gestire il PNRR. Dopo undici mesi a Palazzo Chigi, a poche settimane dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, traccia un bilancio della sua esperienza e apre alla possibilità che i partiti scelgano lui per la successione a Sergio Mattarella. Non è una candidatura, sottolinea a più riprese, la responsabilità della decisione è nelle mani delle forze politiche. Se però la larga maggioranza si dividerà sul prossimo Presidente della Repubblica, avverte, quel voto potrebbe travolgere anche il governo Draghi. Porre il destino del Paese nelle mani di singoli individui sarebbe fare offesa all'Italia, si schernisce negando di nutrire particolari aspirazioni per il futuro. «Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni», dice i giornalisti, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «E' essenziale che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale», aggiunge tranquillizzando i parlamentari. «Ed è importante», afferma ponendosi nel solco di Mattarella, «che il governo sia sostenuto da una maggioranza la più ampia possibile, anche più di quella attuale». Ora come sempre, però, i destini del governo e del Colle sono nelle mani del Parlamento. Un Parlamento assai frammentato, a partire dal nutrito gruppo M5S, e in cui, osservano dalla maggioranza, anche Draghi sulla carta ad ora non avrebbe i voti per essere eletto con i due terzi dei voti. «Ai partiti della sua larga maggioranza il presidente del Consiglio riconosce a più riprese il lavoro fatto. Capisco benissimo che non è facile», afferma.